È in discussione in provincia un progetto che porterà alla semplificazione del rapporto tra gli uffici pubblici ed il mondo dell'assistenza agli anziani, per il quale la comunità di Valle è il referente locale. Quali saranno i benefici per gli utenti dell'Alto Garda lo è stato spiegato stamattina alla presenza del presidente Malfer. Noi siamo impegnati a far sì che in questo processo di riforma si tenga conto del servizio che va fatto agli anziani, in particolare i non autosufficienti e i familiari che seguono i non autosufficienti per poter usufruire dei vari servizi che sono notevoli nella nostra provincia senza che per questo devono lasciar perdere in quanto a volte sono impegnati o non riescono a capire o comunque il giro degli uffici, degli impegni eccetera li porta ad abbandonare questa opportunità. Quindi noi siamo per aprire, perché si apre uno sportello sul territorio il quale sportello segua tutte le varie casistiche, le varie richieste, i vari bisogni che l'anziano ha sul territorio. E quindi una semplificazione che porterà a un ulteriore implemento dei servizi offerti. Sicuramente, ma più che l'implemento dei servizi offerti, il miglioramento dei servizi offerti e la conoscenza dei servizi offerti. E inoltre la persona che raccoglie le richieste da parte che le segua fino al termine del suo percorso, in modo da sgravare, ripeto, l'anziano e la famiglia da oneri di ricerca eccetera, con poi dopo dubbi e situazioni dove uno rinuncia perché poi non riesce più a venire nel capo delle varie iniziative che vengono proposte. Quali sono i servizi che la comunità di valle dell'Alto Gardelidro offre agli anziani? Allora la comunità di valle accoglie tutte le persone anziane che hanno bisogno e quindi ha uno sportello che veramente accoglie tutte le persone e dà tutta una serie di informazioni, le orienta e poi offre direttamente alcuni servizi, quali il servizio domiciliare, pasti a domicilio, anche l'inserimento in centri servizi, aiuti economici, insomma ogni tipo di risposta a bisogni proprio socioassistenziali. È strettamente collegata all'azienda sanitaria, quindi accompagna le persone nel caso se hanno bisogno di risposte anche da quel settore lì, è strettamente legata anche alle PSP con le quali abbiamo da dieci anni e più un accordo di programma e con le quali si lavora molto strettamente insieme, loro ci erogano i servizi in nome per conto nostro. Abbiamo assistenti sociali impegnate in questa attività, alcune che si dedicano proprio all'accoglienza e all'informazione di tutti i servizi e poi abbiamo il gruppo delle assistenti sociali impegnate nel settore anziani, che loro passano molto tempo a fare visite domiciliari, ad andare a trovare le persone anziane, a ascoltare i loro bisogni e a organizzare proprio le risposte di aiuto.